E' un po' lontana, un po' lontana, ecco il mio problema, sono partiti gli inglesi, Mandelli Rossi, Mancinelli, Lugaschi e Scossina, nel tempo di credito 48,95 per Francesco Rossi, Geas, Atletica, lo vedete in terza corsia, e intanto Gioana Adusara Martignoni, Mamediara Soul, Beatrice Benaglia, Jennifer Negri e Giorgia Dizzare al podio per la prevenzione del lungo allievi, quindi abbiamo qui adesso gli atleti sulla rettilinea finale per i 400 metri allievi. Francesco Rossi, Presidente della Chiesa Atletica, Presidente della Chiesa Atletica, Presidente della Chiesa Atletica, Francesco Rossi.